Firmate che fu l'HB Federico che ne ho tolta un telefono della mia cilese preso buono ma sennò costa calma 100 100 però altrimenti un amico eh non so, ci sono venute proposte c'eravamo 300 di nuovo ma adesso come andiamo a fermi salato, girate le cilette, ci siamo filmando dendici di uno sguardo almeno ecco qua per quelli che si chiedono chi è Salvatore Pedalino ha detto ma viste a Ruggiano con il carro c'era hai fatto vedere un personaggio Salvatore è il mio regista si pensa che fai segno c'è la regista Salvatore Pedalino si pensa Salvatore Pedalino viene ancora qui per vedere chi viene ma che ci dico che sia l'azienda Le Rosa non si mette se ti devo denunciare Roberta Pedalino grazie grazie grazie